Buongiorno da Cuscina Bioevolutiva, oggi prepareremo una ricetta RUV igienista, l'insalata di frutta proteica Shelton, che vede il connubio di frutta acida con sedano e lattuga e che presenteremo con una cornucopia di sfoglia all'arancia. Vediamo subito gli ingredienti, per questa insalata ci occorre una sfoglia all'arancia, per la cui ricetta potete visionare il link apposito dedicato alle sfoglie monofrutto igieniste fruttariane, potete trovare il link anche sotto le info di questo video. Qualche foglia di lattuga a vostra scelta, una costa di sedano, un quarto di pompelmo, mezza mela della qualità Renetta, un'arancia, un kiwi, qualche noce del Brasile, due cucchiai abbondanti di chicchi di melagrana. Tagliamo le foglie di lattuga a piccoli pezzetti, tanto va consumata subito come tutte le insalate, soprattutto se sminuzzate. Tagliamo ora a piccoli pezzettini il sedano. Rallaviamo un quarto di pompelmo, priviamolo della buccia. Tagliamo gli spicchi di pompelmo a piccoli pezzettini. Aggiungiamo il pompelmo che abbiamo appena tagliato. Preleviamo metà della mela Renetta e tagliamola sempre a piccoli pezzi. Un po' di succo di limone sulla mela che abbiamo appena tagliato eviterà che essa si ossidi. Previamo gli spicchi dell'arancia della buccia e li tagliamo sempre a fettine. Previamo il kiwi della buccia e tagliamo anche il kiwi a piccoli tocchetti. Uniamo i due cucchiai di mela grana. Lasciamo qualche chicco da parte giusto per decorare poi il piatto. E ora è la volta delle noci del Brasile che tagliuzziamo e aggiungiamo all'insalata di frutta. Mescoliamo e ecco fatto. Prendiamo la nostra sfoglia che se ha forma rettangolare ci conviene ripiegare un piccolo tratto per dare forma alla sfoglia quadrata. Poi la giriamo in questo modo. Ripieghiamo i bordi verso l'esterno e ora riempiamo la cormocopia con l'insalata. Mettiamo qualche chicco decorativo sul bordo di congiunzione trasversale. L'insalata di frutta proteica alla Shelton è pronta. Buona cucina biovolutiva a tutti e alla prossima videoricetta! Grazie a tutti!